eccoci qua salve cari amici di appunti di viaggio mi trovo nella stazione della cala brulucana di san bernardo e come potrete vedere tra poco effettivamente il treno passa perché perché i treni della cala brulucana raccordano catanzaro e soveria mannelli come potete notare eccolo qua questa è la littorina storica allora vi dicevo questa questo tratto ferroviario collegava catanzaro e cosenza in realtà adesso i treni partono da catanzaro arrivano a soveria e viceversa più o meno ce n'è uno ogni ora ora e mezza e servono la zona interna sono molto importante certo mettere in collegamento catanzaro e cosenza sarebbe veramente eccellente la stessa cosa succede tra rogliano e cosenza quindi tra vogliano e cosenza pare che ci sia ancora il treno ma tra rogliano e soveria i collegamenti sono interrotti per una serie di motivi tecnici ad oggi non è stato riattivato questo collegamento certo che 50 anni fa il collegamento c'era esisteva c'era una serie di stazioncine molto piccole che servivano le zone interne e la gente prendeva questo collegamento prendeva questo treno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti di viaggio qui ci sono dei nuovi amici molto giovani come potete vedere ma sti treni passano o non passano uno è già passato ma voi che fai che scuola fate ma avete finito la scuola ed è andato tutto bene allora una sola cosa volete fare una critica alla scuola vabbè che te frega questo è un canale libero scusa dopo che fisco la maturità no tranquillo ti raccomando io stai tranquillo allora un consiglio a tutti gli studenti sul liceo su tutto studiate allora me lo do io il consiglio divertitevi divertitevi perché se siete giovani e vi dovete divertire studiate pure ci mancherete perché l'età bisogna studiare fare tutto però pure divertitevi perché se no bene ciao amici ciao 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 ciao